Eccoci, siamo ad Ostia, abbiamo con il Presidente Giorgia Meloni, stiamo celebrando oggi l'iniziativa Viva la Mamma dedicata alle mamme d'Italia e in tutta Italia, da ieri e oggi, in molte città italiane abbiamo organizzato iniziative e abbiamo anche distribuito il nostro manifesto programmatico, dieci proposte per sostenere le mamme e davvero festeggiarle. Sono dieci punti concreti, dieci punti realizzabili di buonsenso, dal lavoro femminile agli asigni di nito, all'alipotasi prodotti per la prima infanzia, insomma dieci proposte immediatamente realizzabili per sostenere le mamme e le natalità. Non ci scordiamo una cosa, quante donne hanno perso il lavoro durante la pandemia e quante di loro sono madri di figli minori, quindi per sostenere le donne e le natalità ci vogliono iniziative concrete.